Nemos è un avanzato ed innovativo sistema di monitoraggio del territorio nato nel 2019 il cui cervello è basato su reti neurali artificiali che trasforma normali telecamere in occhi elettronici intelligenti in grado di rilevare e distinguere con precisione del tempo reale persone, veicoli ed animali. Il 2020 è diventato un anno di emergenza sanitaria mondiale che ha stravolto le nostre abitudini mettendoci davanti a nuove sfide, nuovi modi di affrontare la vita, il lavoro e nuove regole. Così abbiamo lavorato su Nemos per renderlo ancora più intelligente e diventare utile anche in questa sfortunata situazione. Gli abbiamo insegnato a monitorare la distanza interpersonale, verificare se le persone portano o meno la mascherina e se la vestono nel modo corretto, senza tornelli, senza stravolgimenti negli accessi, senza indossare dispositivi, senza disturbare. Così come dovrebbero essere l'intelligenza artificiale.